La promessa anticipazioni. Ti sei mai chiesto cosa accade quando la tensione è così palpabile da poterla tagliare con un coltello? Questo è esattamente ciò che Curro e Manuel hanno vissuto. Determinato a salvare Martina, Curro ha messo in atto un piano audace. Con la promessa di riuscirci a tutti i costi, il giovane, sicuro di sé, ha chiesto l'aiuto del fedele Manuel, il cui compito cruciale era distrarre il temibile conte Ayala. Curro sapeva che l'obiettivo era chiaro, far uscire Martina dal manicomio con qualsiasi mezzo. Promettendo a Manuel che avrebbe realizzato il piano, qualunque cosa fosse successa, Curro si diresse verso il sanatorio, determinato a liberare Martina. Non appena arrivò, incontrò la giovane e le impartì ordini precisi per la fuga. Manuel, intanto, nel palazzo del conte, metteva in atto la sua strategia di distrazione con abilità, guadagnando tempo prezioso per Curro e Martina. Ma la fuga non fu priva di pericoli. La notizia della scomparsa di Martina si diffuse rapidamente e la coppia dovette correre attraverso la foresta, sfuggendo alle pattuglie del sanatorio. Fu un momento concitato, ma grazie alla loro determinazione e al coraggio, riuscirono a mettersi in salvo. Finalmente, Curro e Martina raggiunsero la promessa. Curro informò Manuel che Martina era al sicuro e che non avrebbe permesso che venisse rinchiusa di nuovo. Ma Manuel era preoccupato. Martina non poteva restare nascosta per sempre. Dubitava di come la famiglia avrebbe reagito alla scoperta dell'inganno, soprattutto con il marchese Lorenzo, Margarita, e il conte Ayala ancora in circolazione. Il confronto con il marchese e il conte era inevitabile. Il marchese Lorenzo sospettava che Curro fosse l'artefice della fuga di Martina, e Ayala non perse tempo ad accusarlo. «Certo che so dove si trova Martina», ammise Curro con determinazione, pronto a difendere la sua amata nonostante le accuse. «Cosa succederà adesso? Curro dovrà parlare con Alonso e affrontare la dura realtà. Ayala non cambierà mai idea su Martina». «Martina non tornerà alla promessa», disse Curro con risolutezza, lasciando intendere che la figlia di Margarita potrebbe tornare solo per svelare i piani sporchi di Ayala. La fuga di Martina rappresenta un atto di coraggio e determinazione da parte di Curro e Manuel. Ma la loro lotta contro il conte Ayala è tutt'altro che finita. Il futuro di Martina rimane incerto. Riusciranno a sventare i piani del conte e a garantire finalmente la libertà a Martina? Solo il tempo lo dirà. Lasciateci un commento con le vostre previsioni e tornate a trovarci per scoprire come si svilupperà questa avvincente storia». Grazie a tutti. Grazie a tutti.